Marina. Grazie, buongiorno a tutti. Cercherò di rispettare assolutamente i tempi e sarò breve. Io comincio da una piccola premessa. È un contesto in cui ci fa molto piacere essere e ringrazio a nome dell'AMMIL e il senatore Trevisi per questa iniziativa e per averci voluti. Io rappresento l'AMMIL e quello che nessuno di voi vorrebbe mai conoscere, cioè gli infortuni sul lavoro. L'AMMIL è un'associazione che esiste da 80 anni. Un po' il nostro slogan è quello che la nostra storia comincia dove finisce la prevenzione. In realtà noi siamo convinti che la prevenzione è qualcosa che deve appartenere a tutti. All'interno dell'associazione ci sono circa 250.000 iscritti, sono tutti vittime del lavoro e rappresentano una parte non proprio piccola di quelli che sono gli utenti dell'INAIL. Scusate, in fondo alla sala potete gentilmente abbassare il tono? Grazie. Scusa, Marinella. Oggi parliamo di circa 650.000 vittime del lavoro, ma sono solo quelle che sono assicurate con l'INAIL. Poi ci sono tanti altri lavoratori che invece non sono assicurati con l'INAIL e quindi non rientrano in questo gruppo. Ma io oggi quello che volevo portarvi è un'esperienza al positivo, in positivo, perché parlare di infortuni è un tema che non piace a nessuno, ma soprattutto accade solo il giorno dell'evento, quando ci sono eventi particolarmente cruenti, quando ci sono incidenti moltipli, quindi quando muoiono più persone. Ma purtroppo la nostra quotidianità, come ben conoscete proprio per il lavoro che fate, ci parla di tre morti al giorno, solo per gli infortuni sul lavoro e non per le malattie professionali. In realtà il mondo del lavoro è fatto anche di tante aziende che invece alla sicurezza ci tengono molto. Quelle che oggi hanno qui messo non solo la faccia, ma hanno anche raccontato tutto quello che fanno per rendere sicuro l'ambiente di lavoro è per noi veramente un motivo di valorizzazione di questa realtà, perché altrimenti si comincia e si continua a parlare solo in negativo. Intanto fare sicurezza, voi vi attenete tutti a quello che prevede il Decreto 81, le norme, ma c'è una parte fondamentale che è quella, oggi parliamo di intelligenza artificiale, di tutti i sistemi che aiutano, Kiwitron è stata bravissima in questo contesto, grazie a te per quanto hai fatto, piccola parentesi, e stai facendo, ma c'è un problema vero e importante, che è quella che è l'intelligenza comportamentale, la sensibilità comportamentale che è dentro le persone. Non vi sto a raccontare di quelli che sono i fattori di rischio o che comportano gli infortuni, perché gli infortuni accadono per tutta una serie di circostanze, non dipende solo dalla sicurezza che ci mette l'azienda, dipende anche dal lavoratore. E nella piena convinzione che la sicurezza la facciamo soltanto tutti insieme, ecco che Ammil, oltre a preoccuparsi della tutela delle vittime del lavoro, perché all'indomani di un infortunio vi garantisco che la cosa più brutta che si prova è la solitudine, il senso di abbandono, perché un infortunio è qualcosa che non vuole conoscere nessuno, non se l'è procurato volontariamente, è una persona che si è ubriacato, se l'è cercata, un lavoratore era una persona che stava cercando di contribuire al mantenimento della propria famiglia. Quindi oltre ad aiutare l'Ammil e le persone, in realtà da molti anni si occupa anche di sostenere la prevenzione, lo fa attraverso le testimonianze. E quindi portiamo un aspetto totalmente diverso, quello emozionale, e con veramente grande orgoglio per l'associazione, sono tantissime le aziende, molte del settore, qualcuno è seduto anche qui al tavolo come Lance, che hanno chiesto ad Amil un supporto per portare le storie di chi si infortuna sul lavoro, per raccogliere un'emozione e far comprendere cosa accade dopo, quello che non racconta mai nessuno. Ora io non potrò mai rappresentarvi le emozioni di tutte le persone che con Amil sono veramente vicine e generosamente mettono a nudo le proprie storie, quello che hanno subito, che hanno passato, perché ad altri non accada. Ma vi garantisco che aziende come Amazon, Snam, Veritas, quindi aziende di settori vicini e collegati, l'ultimo è stato con la Beltrame, le acceierie Beltrame che molti di voi conoscono, abbiamo avuto un grosso evento, un importante evento alla Fiera di Vicenza, dove abbiamo portato le testimonianze. Ecco, io spero che questa diventi una parte dell'attività formativa che tutti voi possiate portare all'interno. Non sto facendo uno spot dell'Amil, sto facendo uno spot sulle emozioni, perché dovete colpire i lavoratori su quello che devono comprendere che possono perdere se non prestano attenzione e non si sentono pienamente responsabili e partecipi del processo della sicurezza all'interno delle aziende. Da oggi il caso vuole che comincia la discussione in Senato, nella Commissione Cultura, del DDL del Presidente Walter Rizzetto, che la Commissione Lavoro e la Camera ha fatto approvare un decreto che porta la sicurezza sul lavoro nelle scuole e lo fa anche con le testimonianze. Comincia questa discussione in Senato, noi speriamo che venga approvata così ci sia maggior supporto alle aziende. Grazie. Grazie a te Marinella.